E' una cosa straordinaria Mio nonno non era soltanto l'uomo più ricco del mondo Era l'uomo più ricco della storia del mondo Noi assomigliamo a voi, ma non siamo come voi E' come se fossimo di un altro pianeta Dove la forza di gravità è talmente forte da piegare la luce E anche le persone Signor Gatti, suo nipote Signora Gatti, abbiamo vostro figlio Che cos'è? Uno scherzo? 17 milioni di dollari Per liberarlo Io non ce li ho quei soldi Allora li chieda a suo suocero Lui ha tutti i soldi del mondo Il signor Gatti è impegnato Mi dispiace, signora Gatti Lavoro per il signor Gatti L'aiuterò a trovare suo figlio Non sono una vera Gatti Ne ho solo sposato uno Mi batto contro un imperio Dobbiamo pagare il riscatto Faranno cose a suo nipote Che nessuna somma cancellerà mai No Lo chiedo come madre Liberate mio figlio Mostriamo che siamo disposti ad andare via Io non posso andare via Signor Gatti Signor Gatti Se non vuole pagare 17 milioni di dollari Quanto sarebbe disposto a pagare? Niente Signor Gatti 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 Grazie a tutti.